Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti a un mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, sono struccata, abbronzata, spero si veda la mia abbronzatura, almeno un pochino. Quindi oggi è totalmente naturale tenendo appunto questa abbronzatura che io adoro, soprattutto quando sono leggermente rossa qua sui zigomi e leggermente sul naso. Mi piace veramente un sacco e in queste circostanze non sento neanche il bisogno di truccarmi. Allora dunque, oggi è un video molto breve, molto easy, molto fast. Perché? Perché vi voglio mostrare degli acquisti che ho fatto stamattina quando sono andata con mio nonno a fare la spesa. Dunque, si tratta di acquisti che ho fatto in due diversi posti. Il primo l'ho fatto da Tigotà, finalmente sono riuscita ad andare da Tigotà. E il secondo invece l'ho fatto da Todis. Si tratta ovviamente di prodotti beauty che appunto trovo qui e invece non trovo a Torino. Sì, c'è un po' di vento, si sta di una meraviglia qui in giardino, poi sono sul dondolo ancora di più. Allora dunque, per quanto riguarda gli acquisti da Tigotà, sono andata di nuovo a comprare finalmente il mio bellissimo shampoo, questo qui, della Naturalium, di cui vi ho già parlato, ovviamente alla pesca, che come vi dicevo questo otterino io non lo trovo. Lo trovo solamente quando vengo giù qui in Umbria. Tant'è che avevo anche cercato di comprarlo, acquistarlo su internet, ma non ne ho trovato traccia. Quindi, forse sì, solo su un sito, però comunque non faceva spedizione sotto un certo numero di quantitativo, un certo numero di pezzi. Comunque, questo l'avete già visto più e più volte all'interno dei miei video e sono felice di averlo ricomprato. Comunque, se vi può interessare, lo trovate da Tigotà e costa 1,99€. Io comunque lo adoro, non solo perché è alla pesca, ovviamente voi lo sapete, ma soprattutto perché mi piace proprio sia la profumazione sia comunque come nutre i miei capelli. Quindi ve lo faccio rivedere. E mi piace veramente tantissimo, è molto molto buono. E comunque da 400 ml mi dura veramente tanto. Poi, sempre per, in ambito, diciamo così, dei capelli, sono andata a ricomprarmi la mia maschera ristrutturante della Gaia. Questa qui, se vi ricordate, ve l'ho mostrata nei prodotti finiti di luglio, se non vado errato. E se non avete visto quel video, vi lascio la bandella qua su in alto, anche perché comunque lascio una sottospecie di recensione su questa crema maschera ristrutturante. Comunque, quello che vi posso dire è che io mi trovo veramente bene con questo. Anche questi a Torini non li trovo e specialmente su internet non sono riuscita a fare l'acquisto. Questa marca qui, la Gaia, io la trovo veramente molto valida. Questo contiene 500 ml di prodotto e ve lo ricordo, se voi non ve lo ricordate, io la utilizzo una volta a settimana e lascio riposare questa maschera sui capelli più o meno 15 minuti. E li rende veramente soffici soffici. Non so se ve l'ho già detto, ma eventualmente ve lo ripeto, è costata 2,99 euro. E poi comunque sia questa qua mi dura tutto un anno, quindi fino all'estate prossima io con questo barattolo sono assicurata. Poi se lo usa Gabriele mi dura un po' di meno, però comunque sia mi dura un anno più o meno. Poi sempre in abbinamento a questa marca ho trovato una cosa che non avevo mai trovato negli anni precedenti, ovvero il balsamo della Gaia. Anche questo capelli soffici e lucenti all'avena. Questo flacone contiene un litro di prodotto ed è costato solamente 1,99 euro. Ora, io di solito con 2 euro mi ci compro se va bene il balsamo della Garnier, ma non credo che mi bassino 2 euro perché mi sembra che sono 2,40 euro, 2,50 euro, no, super giù insomma. Invece qui con 1,99 euro mi sono preso un litro di bagno, scusatemi, di balsamo e ne vale veramente la pena. Ovviamente il balsamo Gaia con proteina dell'avena nutre in profondità assicurando morbidezza e lucentezza al capello. Applicare dopo ogni lavaggio distribuendo il prodotto uniforme, lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Ora, se io dico, io penso, se la maschera ristrutturante per capelli è così formidabile come ho constatato personalmente, anche il balsamo dovrà essere strepitoso. Quindi non potevo non prenderlo e l'ho acquistato. Poi, ripeto, per 1,99 euro, voglio dire, non è una grossa cifra. E questo è quello che sono andata a acquistare stamattina da Tigota. Poi, sono passata da Todis e da Todis ho visto qualcosa che mi ha incuriosito tantissimo. Allora, vi dico, io non mi sono portata tutti i prodotti beauty qui, mi sono portata quelli basi per fare la skincare al mattino e alla sera, però per il resto sono due settimane che io non tratto la mia pelle né con maschere né con altro, se non solo con la crema, che tra l'altro sto usando la crema normale idratante, quella della bottega verde alla pesca alla bicocca, perché ovviamente non mi potevo portare tutto giù. E quindi in realtà stavo cercando una maschera, perché vorrei farmi una maschera, e di fatti l'ho trovata. Ho trovato questa qui, questa maschera alta idratazione, aloe vera bio e biocollagene vegetale con vitamina E. L'ho trovata interessante e l'ho acquistata. L'unica cosa è che su questo pack non c'è esplicitamente scritto per quali tipi di pelle è adatta, ma io sinceramente l'ho chiesto alla commessa e ha detto che in realtà va bene per tutti i tipi di pelle. Quindi l'ho presa e l'andremo a provare. L'unica cosa è che qui c'è scritto fino a un massimo di 25 minuti. Noi proviamo. Di solito so che si tengono più o meno 15 minuti, ma insomma. Tra l'altro qui c'è scritto, cosa molto curiosa, che va conservata in frigorifero. Vedete? Non so se mette bene a fuoco, comunque c'è il frigorifero. Bisogna conservarla nel frigorifero prima di utilizzarla. Ora, non so esattamente quanto tempo ci debba stare, perché in realtà non c'è scritto... Ah no, sì. Per un'azione d'urto, mettere il prodotto in frigorifero per una quindicina di minuti prima dell'applicazione. Togliere la maschera dalla confezione e staccare la parte protettiva, e questo lo sappiamo. Lasciare agire per circa 25 minuti, quindi rimuoverla delicatamente. Quindi, io non avevo idea che le maschere potessero essere lasciate in frigorifero, sinceramente. Quindi è una cosa un po' strana, però sono molto curiosa di provarla. Poi ho trovato un face gel, questi qua, al carbone vegetale, questo qua va bene per tutti i tipi di pelle, con aloe vera, ovviamente, e estratto di camomilla. Rimuove i punti neri e le impurità. Questa qui. Io non l'ho mai provata, non ho mai provato una face gel, e tanto meno che riguarda i punti neri. Ho provato solamente, se vi ricordate, ho comprato quel cerottino da mettere sul naso per i punti neri, però così non l'ho mai provata. è costata questa 1,49 euro, però dentro ce ne sono 15 ml. Qua dice anche che è da utilizzare una volta a settimana per pelli normali e due volte a settimana per pelli misto-grasse, e di lasciare asciugare la maschera per circa 30 minuti e poi risciacquarla. Non l'ho mai provata, ma sono veramente curiosa. Ve la rifaccio vedere. Poi, ho trovato qualcosa che mi ha incuriosito tantissimo. Adesso, così a bruciapelo, faccio solo una piccola parentesi, dicendovi che io avrei ancora una news da dirvi, da condividere con voi, inerente sempre al mondo beauty. Ok? Quindi tutti i prodotti beauty e quant'altro. Solo che ancora non l'ho fatto, uno, perché ho avuto tante cose da fare, tanti video tutti programmati insieme, spero che si senta perché stanno passando le macchine, e due, perché sinceramente mi era passato di mente, e siccome ho ancora tanti video da fare, non sono ancora riuscita ad organizzarmi bene su questo punto di vista. Però, io vi dico, se siete interessati, e questo ve lo sto dicendo perché, perché si collega a quello che vi farò vedere adesso, i prodotti che ho comprato adesso. Quindi, se magari siete interessati a sapere di che cosa sto parlando, di questa news del mondo beauty e quant'altro, fatemelo sapere giù sotto nei commenti, anche perché sono prodotti beauty che, secondo me, a parer mio, possono interessare più le persone adulte, rispetto magari a una ragazza di 20 anni. Insomma, non vi voglio dilungare tanto, però fatemelo sapere giù sotto nei commenti, se siete interessati. Detto questo, ho trovato questi due prodottini, anch'essi pagati 1,49 euro l'uno, e sono innanzitutto una maschera per il viso in tessuto, ovviamente, ma al veleno di vipera, lifting intensivo, senza risciacquo. Anche questa, si consiglia di conservare in frigorifero, per aumentare l'effetto rinfrescante. Ed è questa qui. Ora, il veleno di vipera, in realtà, è ottimo, davvero, davvero ottimo, però non vi voglio spoilerare nulla, perché se siete curiosi, me lo dovete dire giù e fare un video dedicato a questi prodotti, e poi vi dirò di più, ovviamente. Però, comunque, si ha un effetto lifting davvero. Io ancora non ho mai provato un tipo di prodotto così, quindi col veleno di vipera, però, ho avuto la certezza, la conferma e la testimonianza di, non vi dico nient'altro, però, di persone che conosco, che hanno utilizzato prodotti al veleno di vipera e prodotti davvero miracolosi, sul serio, quindi ho deciso di provarla in anteprima. E, sempre collegato al veleno di vipera, ho trovato anche qui una face gel, questa qui in bustina. Anche questo lifting intensivo e contiene acido ialuronico, oltre, appunto, al veleno di vipera. Utilizzare quotidianamente, applicando leggero strato fino al completo assorbimento. Ora, sono veramente curiosa di provare questi due prodottini al veleno di vipera e, anzi, se magari vi fa piacere provarli insieme, ditemelo giù sotto nei commenti, così magari li andremo effettivamente a provare insieme. Questo per quanto riguarda questi due prodottini qua. Perché, per quanto riguarda gli altri due, ragazzi, io non posso aspettare, devo assolutamente farmi una maschera prima che la mia pelle mi chieda pietà. Detto questo, questi erano gli acquisti che sono andata a fare stamani e spero che li abbiate trovati interessanti. Detto ciò, il video di oggi può anche finire qui e quindi non mi rimane che dirvi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale e lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, commentate, lo sapete cosa molto importante e voglio sapere, innanzitutto, se le news le volete sapere. Due, se avete già provato prodotti al veleno di vipera, se sì, come vi siete trovati? Altrimenti, voglio solo sapere se siete curiosi di saperne di più su questi prodotti. Detto questo, vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram e noi ci vediamo prestissimo con un altro divertentissimo, simpaticissimo video insieme. Mi lancio un bacione grande grande. Ciao a tutti!